buongiorno cari amici benvenuti dal vostro andrea al matematico in questa nuova lezione di matematica finanziaria in cui ci occupiamo di capire all'interno del regime semplice che cosa succede quando durante un investimento cambia il tasso di interesse e poi il calcolo del tasso medio per capire meglio questo argomento andiamo a risolvere questo esercizio pratico quindi luca investe 3000 euro in capitalizzazione semplice per un periodo complessivo di sei anni sapendo che il tasso di interesse del 5 per cento per i primi due anni è appunto il tasso diventa semestrale quindi il 5 per cento annuo per i primi due anni poi diventa il tasso semestrale del 3 per cento per i successivi tre anni e due mesi e poi al tasso diventa dell'1,5 per cento trimestrale per gli ultimi otto mesi calcola il montante e il tasso annuo medio ora per prima cosa andiamo a rappresentare quindi il nostro grafico quindi la nostra linea temporale sappiamo che oggi all'epoca zero investiamo un capitale di 3000 euro e all'epoca sei ovvero sei anni dovremo calcolare il nostro montante questo investimento è suddiviso in tre sottoperiodi il primo della durata di due anni che chiameremo t1 il secondo della durata di tre anni e due mesi che chiameremo t2 e il terzo di durata otto mesi che chiameremo t3 ora se vogliamo quindi inserire i tempi ovviamente quindi il primo tempo spartiacque di questo tempo complessivo di sei anni e due anni poi se a due anni sommiamo il secondo sottoperiodo cioè sommiamo tre anni e due mesi otteniamo cinque anni e due mesi e ovviamente l'ultimo periodo di otto mesi ci fa concludere il sesto anno ora che cosa succede in questi tre sottoperiodi quindi che il primo tasso di interesse annuo vedete che l'ho chiamato i primo iscritto in alto è del 5 per cento quindi non ho messo nessun indice nel secondo sottoperiodo troviamo un tasso semestrale quindi i due quindi i secondo sarebbe indicare il secondo tasso utilizzato potevo scrivere anche un due scritto in alto però il due scritto in basso sta a indicare che questo tasso è semestrale il terzo appunto sotto nel terzo sottoperiodo di otto mesi abbiamo un tasso trimestrale quindi l'ho chiamato i4 e sopra ho scritto terzo a indicare che è il terzo tasso utilizzato nell'investimento di 1,5 per cento a questo punto ricordiamo che nel primo sottoperiodo utilizzando un tasso annuo è bene che il tempo lo esprimiamo in anni quindi se utilizziamo e qui non ci sono problemi perché quindi t1 uguale a 2 espresso in anni e il tasso è annuo che è del 5 per cento nel secondo sottoperiodo utilizzando un tasso semestrale però avendo appunto il tempo espresso in anni e mesi ci conviene esprimere tutto in semestri quindi siccome tre anni sono 3 per 2 anni quindi 6 anni più due mesi sarebbero due sesti di semestre essendo che un mese è una sesta parte di semestre il terzo sottoperiodo lo vogliamo quindi espresso in trimestri perché utilizziamo un tasso trimestrale i4 perché ci sono quattro trimestri in un anno e quindi otto mesi sono otto terzi di periodo ora ricordiamo la formula del calcolo del montante quando cambia il tasso di interesse nel regime interesse semplice che cosa succede quindi il montante si calcola come il capitale per aperta tonda 1 cioè una volta il capitale più la sommatoria degli k per i tk cosa significa questa cosa significa capitale per aperta tonda 1 più appunto la sommatoria dei prodotti dei tassi per i tempi quindi il primo tasso utilizzato per il primo tempo utilizzato più il secondo tasso utilizzato per il secondo tempo utilizzato più il terzo tasso utilizzato per il terzo tempo utilizzato ovviamente tasso e tempo l'importante è che sono espressi a coppie nella stessa unità di misura ora abbiamo tutti i dati quindi andremo a calcolare il nostro montante come 3000 per aperta tonda 1 più primo tasso che è 0,05 ovvero il 5 per cento per il tempo in anni quindi per 2 più 0,03 che è il secondo tasso ovvero il 3 per cento per il secondo tempo espresso ovviamente in semestri quindi per aperta tonda 3 per 2 cioè 3 anni per 2 più 2 diviso 6 chiusa parentesi tonda più il terzo tasso utilizzato quindi 0,015 per il tempo espresso ovviamente in quadrimestri in trimestri quindi 8 terzi chiusa parentesi tonda uguale quindi calcoleremo a 3.990 a questo punto ci occupiamo del tasso medio che cos'è il tasso medio quindi noi abbiamo investito 3.000 euro all'inizio per ottenerci un montante che abbiamo calcolato che è pari a 3.990 euro qual è quel tasso che ci permetterebbe di appunto quel tasso annuo visto che noi vogliamo un tasso medio annuo che ci permetterebbe appunto investendo all'inizio un capitale di 3.000 euro di trovare esattamente dopo sei anni lo stesso montante di questo investimento che ha variato continuamente i tassi nei vari periodi e quindi di 3.990 euro per poterlo calcolare quindi per prima cosa andiamo a trovarci l'interesse maturato complessivamente calcolato appunto come la differenza tra il montante e il capitale quindi facciamo 3.990 meno 3.000 e otteniamo 990 euro di interesse a questo punto ricordiamo che nel regime semplice l'interesse viene calcolato come il prodotto del capitale per il tasso per il tempo vedete che sopra questo tasso vi ho messo questa barretta orizzontale ad indicare che questo è il tasso medio dell'investimento ora ovviamente basterà ribaltare questa formula e quindi dividere per ct entrambi i termini e avremo quindi il nostro tasso medio calcolato appunto come rapporto tra l'interesse complessivamente prodotto e il prodotto cioè la moltiplicazione tra il capitale il tempo ovviamente volendo il tasso medio lo volendolo in anni questo tempo lo dobbiamo inserire in anni qua non ci sono problemi perché l'investimento dura esattamente sei anni quindi andiamo a calcolare la nostra formula quindi l'interesse al numeratore quindi 990 fratto il prodotto del capitale per il tempo quindi 3.000 per 6 otteniamo come risultato 0,055 che sarebbe il 5,5 per cento a questo punto vediamo un modo alternativo molto più pratico per poter calcolarsi il tasso medio nel regime semplice possiamo applicare questa formula quindi il tasso medio nel regime semplice non è altro che la sommatoria dei tassi per i tempi fratto la sommatoria dei tempi ovvero il tempo complessivo ovviamente espresso nell'unità di misura per cui vogliamo calcolare il tasso medio quindi in soldoni sarebbe il primo tasso per il primo tempo più il secondo tasso per il secondo tempo più il terzo tasso del terzo tempo fratto il prodotto dei tempi ecco l'importante che al numeratore di questa formula tassi e tempi a coppie devono essere riferiti alla stessa unità di misura mentre quando invece esprimiamo i tempi al denominatore dobbiamo tenere conto del tasso che vogliamo calcolare quindi siccome noi vogliamo calcolare un tasso in anni la somma dei tempi e quindi ogni singolo tempo presente dovrà essere espresso in anni quindi tasso medio uguale qui andiamo a scrivere 5 per cento per 2 ovvero 0,05 che è il tasso anno per il tempo in anni più 0,03 che essendo il tasso semestrale dobbiamo andare a scrivere il tempo in semestre quindi 3 per 2 più 2 sesti più il terzo tasso era espresso su base trimestrale quindi 0,05 0,15 per 8 terzi tutto attenzione alla somma dei tempi la somma dei tempi la vogliamo in anni ma sappiamo che il tempo complessivo dell'investimento è 6 quindi possiamo semplicemente scrivere 6 e quindi troveremo lo stesso identico risultato di prima ovvero il 5,5 per se il video ti è piaciuto lascia un bel like iscriviti al canale ma soprattutto se vuoi scoprire di più circa il regime interesse semplice tutte le sue proprietà ho preparato un video corso di matematica finanziaria che si chiama concetti base e regimi in cui troverete tutti i concetti base della matematica finanziaria e tutti i regimi anche tra cui l'interesse semplice vi lascerò in descrizione il link con tutte le caratteristiche del video corso e sotto un altro link di accesso al sito attraverso cui potrete accedere al video corso mi raccomando i prezzi sono assurdi quindi troverete questo video corso e quindi svariate ore con svariati esercizi presi da tante università ad un prezzo veramente assurdo attualmente siamo sui 9 euro e 99 centesimi veramente una miseria vi ringrazio per l'attenzione ci vediamo sempre qui sempre col vostro andrà il matematico sempre alla prossima lezione di matematica